Un rapido riassunto, una veloce sintesi di quello che è stato il 2017 dell'Unesia Volley in questi primissimi giorni del 2018. Ebbene, il campionato di B2 che all'inizio ci preoccupava parecchio, si è rivelato in realtà un campionato anche abbastanza fluido. In sostanza poi siamo circa otto squadre, avere un punto di differenza uno dall'altro, essere molto equilibrate tra di noi, per cui basta una partita persa, una vinta che si rivoluziona la classifica. Quindi insomma un campionato che poi alla fine ci ha dato anche soddisfazioni. Purtroppo abbiamo avuto gli infortuni, prima la nostra regista, la Giorgia, che si è infortunata e quindi abbiamo dovuto sostituire il palleggio. Poi adesso un grosso infortunio dal nostro capitano, la Denisa Marku, che oltretutto non abbiamo neanche idea di quando potrà riprendere, perché probabilmente dovrà essere sottoposta anche a un intervento chirurgico. Comunque, nonostante queste defaianze, la squadra ha reagito bene, le ragazze hanno dato il meglio, noi tanto ancora penso che ci siano ancora dei margini di miglioramento. Ci auguriamo di avere un nuovo anno ricco di impegni, ma anche di grandi soddisfazioni. Oltretutto nel settore giovanile anche ci stiamo veramente comportando bene. Comunque c'erano sia Capitan Marco che la Ruffini, sia la Marco che la Ruffini alla bellissima festa che per fine anno avete organizzato al Pala Bologna e questo magari è di buon auspicio, tanto più che vi siete confermati come una bellissima famiglia in tale occasione. Sì, è stata una festa dove c'erano anche le altre squadre facendo parte del pool, per cui eravamo veramente una grande famiglia.